Salve a tutti e benvenuti a questa nuova video recensione. Il prodotto che oggi andremo a recensire interesserà particolarmente i videogiocatori e coloro che si cimentano nell'overclock. Sul banco di prova oggi abbiamo il nuovissimo kit di memoria RAM dell'Avexir presentato dal Computex di TAPEI nel 2011. Stiamo parlando delle Avexir Core Series, in questo caso versione dual channel, poiché per l'appunto esiste una versione triplo e quadruplo canale, DDR3 2000MHz e sempre in questo caso la versione da 8GB, quindi 4GB per memoria. La caratteristica principale che distingue queste memorie RAM da tutte le altre è la presenza di LED nella parte superiore. Non so se al momento riusciate a vedere, qui esattamente, LED che, come dicevo, lampeggiano durante l'utilizzo e che donano un look aggressivo e futuristico, che personalmente ricordano molto kit, la macchina del telefilm supercar. La confezione non sono sicuro sia quella definitiva, ma per il momento è caratterizzata da questo comodo blister. Nella parte frontale è possibile ammirare le memorie e nella parte superiore vengono date le specifiche, quindi in questo caso, come abbiamo detto prima, DDR3 2000MHz e 4GB per 2 sta a significare il kit da 8GB. Girando il blister, invece, possiamo notare una serie di icone. Vediamo se riusciamo a leggere il testo. Ok, partendo da sinistra, abbiamo il 100% Burning Test, che ci indica che le memorie sono state testate a pieno carico. Made in Taiwan, fabbricate in Thailandia per l'appunto. Lifetime Warranty, quindi garanzia vita, ottimo. 101% Service, credo sia di indicare l'assistenza post vendita. Questi altri due, invece, stanno ad indicare Worldwide Service e Worldwide Warranty. Cosa significa? Questo vuol dire che se acquistate queste memorie da un altro paese, come ad esempio la Germania, poi potrete usufruire della garanzia e dell'assistenza anche in Italia. Quest'altra icona, invece, sta ad indicare che si tratta di banchetti RAM Dual Channel, quindi, come abbiamo detto prima, esiste anche la versione da triplo e quadruplo canale. E quest'ultima, invece, sta ad indicare che queste memorie sono compatibili per PC desktop e quindi non per portatili o laptop. Andando a vedere qui in basso, invece, abbiamo questa piccola descrizione delle memorie Core Series, che, come sappiamo, le memorie Core Series sono memorie pensate soprattutto per ottenere alte performance di gioco. Inoltre, qui in basso, non so se si riesce a leggere, viene indicato che queste memorie sorpassano sia gli standard JEDEC che quelli ISO 9001 e che, inoltre, sono testate manualmente una ad una prima di essere messe in commercio, sinonimo, quindi, di altissima qualità. In basso a destra, invece, abbiamo questo piccolo adesivo ad ologramma, all'interno del quale è possibile leggere la scritta AVEXIR. che ne indica l'originalità del prodotto. Ecco. Ora, aprendo il blister... Un attimo. Ecco. Apprendo il blister, all'interno di questo foglietto, uscirà questo piccolo, se così possiamo definirlo, manuale, all'interno del quale troviamo una piccola immagine che spiega comunque come installare la memoria e su quest'altra pagina, qui per l'appunto, vengono date informazioni riguardanti la garanzia. Passiamo adesso alle memorie. Ecco le memorie. Allora, la prima cosa che noterete, quasi certamente, è la presenza di queste protezioni in gomma qui in basso sui pin delle memorie. E, a mio avviso, anche le altre compagnie dovrebbero adottare delle protezioni simili, poiché non solo questi piccoli gommini proteggono le memorie da piccoli urti, ma anche dall'elettricità statica, che può risultare molto dannosa per i componenti elettronici. Quindi, davvero ottima mossa da parte dell'AVEXIR. A lati, invece, abbiamo delle pellicole. Vediamo se riesco a rimuoverle. Eccole. Si rimuovono in questo modo. Queste pellicole protettive servono ad evitare possibili graffi durante il trasporto e, mi raccomando, non dimenticate di rimuoverle, perché comunque non so come potrebbero reagire a temperature molto alte. L'unica cosa che non mi è piaciuta molto, pur trattandosi soltanto di estetica, chiariamo, è la non perfetta aderenza dei due lati delle coperture della memoria. In ogni caso, si tratta comunque di primi modelli, quindi sicuramente questo problema verrà risolto in futuro. In questa versione i LED sono blu, ma probabilmente verranno sviluppate anche altri modelli con LED di colore verde o rossi. Nel sistema abbiamo già installato altre due di queste stesse memorie che sono state utilizzate per i vari test. A breve partirà un video che mostrerà le memorie in azione e poi passeremo alla configurazione delle memorie per il primo utilizzo. e poi passeremo alla configurazione delle memorie per il primo utilizzo. E poi passeremo alla configurazione delle memorie per il primo utilizzo. e poi passeremo alla configurazione delle memorie per il primo utilizzo. Rieccoci qui, passiamo adesso alla configurazione per il primo utilizzo. Sì, poiché dopo la prima installazione le memorie partiranno con il profilo più basso, questo che sto cerchiando adesso con il mouse per l'esattezza. Per cambiare profilo dovremo accedere al BIOS e cambiare le impostazioni da lì. Prima di tutto dobbiamo scegliere quale profilo utilizzare. Quelli consigliati sono questo, l'XMP, quindi Extreme Profile da 2000 MHz e quest'altro, l'XMP da 1600 MHz, il quale possiede timings e voltaggi minori. Una volta scelto il profilo, trascrivete su carta la tabella del profilo scelto, riavviate il PC ed accedete al BIOS. Una volta effettuato l'accesso al BIOS, potrete modificare le impostazioni manualmente o automaticamente se la vostra scheda madre lo permette. Naturalmente, vi ricordo che i vari profili sono quelli testati e sicuramente funzionanti, ma questo non toglie la possibilità di poter ottenere timings e voltaggi minori di quelli dichiarati, in modo da ottenere maggiori prestazioni. Nell'ultimo test, ad esempio, utilizzando il profilo da 1600 MHz, sono riuscito a far scendere il voltaggio da 1.60V a 1.54V, riuscendo a mantenere la perfetta stabilità del sistema, ottime memorie RAM, ad un prezzo davvero competitivo, quindi. Vi ricordo che al momento in Italia è possibile acquistare queste memorie RAM e tutti gli altri prodotti Ivexir, al link indicato nella descrizione qui in basso. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, vi invito a visitare il nostro sito web e ad iscrivervi al nostro canale YouTube per ulteriori recensioni. Ciao e alla prossima!